I club di basket attendono certezze nella ripartenza, ma intanto la Giova Scafati ha già chiarito le volontà per la prossima stagione. La squadra giallo-blu sarà ambiziosa al punto giusto, con la guida di coach Alex Finelli, che al canale 696 ha presentato le sensazioni verso il rientro nell'agro. Sono sensazioni molto buone, perché entro a far parte di una bellissima famiglia, una società con grandissima tradizione, che in questo mese ha fatto un grande lavoro di mercato, grazie alla società, alla famiglia Longobar, Biagino Guastaferro. Scafati Basket sta allestendo un roster competitivo, ambizioso, e questa è la notizia più bella per tutti i tifosi, per tutti gli appassionati di Scafati. Ripartire di slancio con l'entusiasmo opportuno da innescare tra la squadra e la piazza. Siamo felici dei giocatori che abbiamo firmato, tutti giocatori in ruoli differenti, quindi c'è il potenziale per costruire una struttura di squadra che possa giocare in campo con personalità, energia, ma anche intelligenza tecnica.